che vanno anche nei vari musei della città. Perché vi dico questo? Perché leggiamo da Repubblica Milano una bellissima articolo, una bella polemicuccia che non potevamo mancarci perché succede questo il museo del novecento non è a misura di bambini, il post di una mamma accende la polemica social la gente gli rispondi, se pensi di farli mangiare e bere dentro le sale però ti sbagli eh sì perché la visita al museo nel giorno di Pasqua con i due figli di 5 anni e due anni e mezzo non è andata bene per questa famiglia che dice sempre marcata stretta dagli addetti è stato stressante ebbene sì un post che qualcuno ha messo, cioè una signora ha messo sul gruppo facebook Mami Club, ve lo farei chiudere solo per il nome, oggi sono molto cattivo su questa cosa a me è proprio un interesse sta roba, comunque questo post finito sul gruppo Mami Club da una mamma che ha voluto condividere il racconto di una visita stressante ci spiace per la signora vissuta con la sua famiglia nel giorno di Pasqua o Pasqua, Pasquetta sarà stato, va bene no, nel giorno di Pasqua dice, va bene nel giorno di Pasqua cosa dice il post? questa mattina abbiamo visitato il museo due adulti e due bimbi di 5 e 2 anni e mezzo appena arrivate alla prima panchina della prima sala così c'è scritto il bambino dice, mamma ho fame eh, arrangiati gli avrei risposto io invece no, seduti che vi do il succo e due taralli ma se in un museo che succo e taralli dai cioè, ma daglielo prima, daglielo prima nel senso, poi, ragazzi, i bambini che hanno fame non muoiono di fame, anche se non mangiano all'istante quando hanno fame non capisco dopodiché io credo che andare al museo del 900 con un bambino di 2 anni e mezzo io capisco che non sai dove metto è vero, cioè, il problema non è il museo il problema è quello che c'è fuori dal museo il problema è che tu non puoi andare a un museo con un bambino di 2 anni e mezzo non puoi dovrebbe essere illegale, va bene lo posso dire la dico grossa non puoi ma anche perché non te lo godi tu poi 2 anni e mezzo cosa puoi capire del museo del 900? niente anche a 5 anni ho l'idea che forse mi fatica capirlo però vabbè, non lo so proviamo a portarlo boh, ma anche, cioè si lamenta perché appunto dice no, mi hanno detto di cacciare dicendo che non potevano mangiare via non potevano mangiare lì e quindi ci hanno detto che non si poteva mangiare i bambini poi hanno trovato un modo comunque dice anche un mese fa eravamo agli uffizi e ci hanno fatto mangiare alla National Gallery di Londra idem regole diverse ma può essere dopodiché signora li porti però anche a un parchetto questi poveri bambini 2 anni e mezzo ci stanno facendo fare tutto il giro dei musei di sto mondo pori cristi nel senso no, ma benissimo poi però se da grandi non amano l'arte io qualche domanda me la farei mi avrebbe da dire la cosa che mi fa più ridere però di questa storia è che il post dice non c'è niente pensato per intrattenere i bambini durante il percorso molti musei hanno anche aree giochi per colorare benissimo eh però c'è no io non voglio sti aree colorate per i bambini non me ne frega niente posso dire che non me ne frega niente di sti bambini che vogliono venire al museo per forza statevene a casa avete fatto i figli eh peggio per voi mi spiace eh dovevate pensarci prima va bene vi piace l'arte lasciate da casa con il marito andate a vedervi il museo vi piace l'arte insieme al marito trovate una babysitter poi ripeto il problema è fuori non è solo i musei il problema è che una famiglia con due figli che invece li ha voluti fare e sono contento che li abbiano fatti o che voglia e che voglia anche nutrire la propria anima il proprio spirito di arte non può trovare una modalità per lasciare i figli da qualche parte andare a vedere il museo però scusate mi sono inalberato perché a me questi gruppi Mami Club adesso so che mi arriverà di tutto però lo so scusate però non 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 possiamo pensare che il mondo ci ha fatto solo a misura di bambino anche perché poi sulle cose importanti non è fatto a misura di bambino